Musica Ciao, bentornati sul mio canale oggi mi trovate qui con questo trucco super super colorato luminoso e alquanto primaverile estivo è un look che in realtà volevo riprodurre già da un po' di tempo perché l'avevo visto durante la pubblicità di H&M a Natale che vedevo come protagonista Katy Perry in versione Fata era un trucco che mi era piaciuto tantissimo e volevo appunto riproporlo, di visitarlo io spero che il trucco vi piaccia e vi lascio al tutorial inizio dal viso rinfrescandolo e spruzzando un po' di Fix Plus della MAC come fondotinta utilizzo l'Estée Lauder Double Wear nel colore Rattan come correttore utilizzo lo Studio Finish della MAC nel numero NW25 per illuminare un po' la zona di sotto degli occhi vado a fare un mix di due pene illuminanti della MAC Prep & Prime Highlighting Pen nel colore Light Boost e Bright Forecast sfumo come se volessi creare un triangolo al di sotto degli occhi come primer occhi vado ad utilizzare il Soft Hooker Paint Pot della MAC su tutto l'occhio inizio a tracciare la forma del mio occhio con l'ombretto Caramel di Nabla e prendo un pennellino molto piccolo angolato e visto che io ho la palpebra incappucciata la palpebra mobile vado leggermente al di sopra e mi fermo qui alla fine e vado a sfumare leggermente il prodotto per questo video oggi vado ad utilizzare la mia palette della Cryolan Variety che è una bellissima palette di ombretti perlati colorati che ho comprato quando vivevo a Londra da Charles Fox che è un bellissimo negozio che vende tutti i prodotti della Cryolan e la masca a Covent Garden vende anche tutti i prodotti di effetti speciali se passate per Londra e a Covent Garden dateci un'occhiata inizio mischiando questi due bianchi perlati uno è tendente a rosa un altro al dorato quindi faccio un mix di questi due anche leggermente al di sotto che andiamo a illuminare con questo colore nella parte centrale dell'occhio vado ad applicare un altro ombretto di Nabla questa volta applichiamo Zoe quindi applichiamo questo colore nella parte centrale solamente e al di sopra faccio un mix di questi altri due colori sempre della palette Cryolan che sono un verde acquamarino e un turchese perlato prendo il viola che si chiama Cut Leia lo applico nella parte esterna adesso vado ad applicare dei brillantini per rendere il tutto più luminoso e applico i Glam Crystals della Collection 2000 che è una marca che trovate a Londra da Boots applico prima l'argento solamente nella parte iniziale e lo trascino verso il verde e al di sopra ci applico i brillantini dorati applico il Reflex Glitter della MAC nel colore Teal applico la colla per brillantini picchiettandola sulla parte verde al di sotto del sopracciglio vado ad applicare questo bianco perla che è il primo della palette adesso nella rimenterna dell'occhio vado ad applicare una Chromographic Pencil della MAC nel colore turchese nella parte inferiore dell'occhio applico sempre l'ombretto della Nabla Caramel e solamente nella parte esterna un marrone più scuro adesso passiamo all'eyeliner l'eyeliner pen della Essence Extra Long Lasting che ho acquistato un po' di giorni fa e mi sta piacendo davvero tanto per durata e qualità di scrittura vado a fare un eyeliner appuntito nell'angolo interno utilizzo lo Zoom Waterfast della MAC che è un mascara waterproof e come ciglia finte applico le Iconic Lashes di House of Lashes dopo aver finito gli occhi torniamo al viso andiamo a fissare la base che non abbiamo fissato in precedenza ad utilizzare la Studio Fix Powder della MAC nel numero NC25 ne applico uno strato molto leggero perché comunque è una cifra molto coprente che va ad opacizzare e ad uniformare ulteriormente il colorito essendo comunque un fondotinta in polvere andiamo a fare un po' di contouring con la mia palette della Sleek prendo il marrone opaco e lo applico sulla parte alta delle guance lo applico anche di tutto della mascella vado a fare un po' di contouring anche al naso per assottigliarlo è giunta l'ora di illuminare ovviamente andiamo ad utilizzare il mio Soft & Gentle lo applico sull'arco di cupido al centro del naso specialmente sulla punta sulla parte alta delle guance come blush utilizzo un blush opaco rosa questo è della MUA è nel colore Marshmallow lo applico solamente al centro delle guance per dare un tocco di colore la scelta più sicura è sicuramente quella di optare per delle labbra nude e dei toni molto molto naturali quindi perciò ho scelto la tinta della Wicon che è la Long Lasting Liquid Lipstick nel numero 7 poiché sono delle tinte long lasting e dallo scovolino super preciso permettono un'applicazione anche senza l'utilizzo della matita se il trucco vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete già condividete il video sui vostri social se vi va e inoltre potete seguirmi anche sugli altri social mi trovate su Facebook Instagram Pinterest Twitter e Youtube ovviamente con il nome di Michela Merone Makeup e vi lascio comunque tutti i link ai social alla fine di questo video grazie per aver guardato e per avermi regalato un po' del vostro tempo e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao